Gran parte dei reparti presenti nelle strutture sanitarie di Muraglia, entro ottobre 2024, saranno trasferiti per costruire il nuovo ospedale. Una ricollocazione necessaria per la realizzazione della nuova struttura, ma che a detta del consigliere regionale Andrea Biancani sta diventando il pretesto per togliere servizi alla città di Pesaro. L'accordo siglato dalla Regione Marche prevede lo spostamento definitivo della struttura residenziale e riabilitativa, le cosiddette SRR, del reparto di psichiatria e delle comunità protette. Si tratta di 40 posti letto, di persone che sono comunque sempre state a Muraglia e che hanno bisogno di stare in mezzo a un luogo dove ci sono altre persone, perché come dire la parte della inclusione, dell'integrazione e della socializzazione è sicuramente molto importante. Questi dovrebbero, secondo l'accordo, dovrebbero essere spostati nella nuova struttura che verrebbe realizzata a Monbaroccio. Ovviamente in questi giorni le famiglie si sono mobilitate perché ritengono che questo spazio, questo luogo che è stato individuato non sia idoneo appunto per accogliere queste persone che hanno bisogno appunto di essere in mezzo agli altri. Dall'altra parte lo stesso accordo prevede di spostare l'SRR che sarebbe le strutture riabilitativa a Galantara. Anche da questo punto di vista, qui parliamo di 18 posti letto, le famiglie sono preoccupate perché anche Galantara non ha quelle caratteristiche come dire di essere all'interno di un centro abitato dove appunto questi pazienti possono in qualche modo uscire ed interagire con il resto della comunità e quindi anche questo spostamento viene messo in discussione. Dall'altra parte ho voluto evidenziare come invece a livello definitivo dovrebbe essere spostato il reparto di psichiatria dove non sarebbe più ripristinato a Pesaro ma rimarrebbe solamente a Fano e Orbino. Lo stesso Biancani in questi mesi ha proposto più volte delle alternative ma la regione ha scelto di intervenire diversamente. Nella città di Pesaro abbiamo tantissimi posti, ho sempre sollecitato la possibilità di recuperare l'ex manicomio, cioè il San Benedetto. Ricordo che attualmente è previsto un progetto che riguarda la realizzazione di case popolari, la parte come dire che ha acquisito il comune ma c'è tutta un'altra parte che è più grande di quella di cui è già previsto il recupero che è di proprietà Asur che era destinata ovviamente a un ex manicomio che potrebbe essere recuperata, riqualificata, c'è già un progetto definitivo e non capisco perché si voglia decentrare, spostare questi servizi dalla città di Pesaro e portarli a Bombaroccio o portarli in altre realtà.